Buongiorno, ciao a tutti e a tutti, sono Davide della piattaforma di inchieste militanti, un collettivo basato su Parigi che è nato nel 2007 per rinnovare un po' le pratiche e i discorsi sull'inchiesta militante, facciamo per l'inchiesta soprattutto sulle lotte in corso nella regione parigina con i lavoratori della logistica, con gli studenti, con in misura minore i comitati verità e giustizia nei quartieri popolari che si battono contro le violenze poliziesche, con i Gilgione, un movimento che abbiamo seguito dall'interno fin dall'inizio, ossia ormai oltre un anno fa, e poi anche nella sequenza più recente con certi gruppi, certi collettivi del mondo ecologista, certe frange radicali di Extention Rebellion qui in Francia. Interviniamo non soltanto sulla produzione discorsiva facendo interviste con i soggetti che si attivano, non soltanto con dei testi più di linea, editoriali in particolare per quanto riguarda i Gilgione o un movimento della primavera del 2018 contro la ristrutturazione dell'università e del trasporto pubblico ferroviario, ma anche come media indipendente facendo controinformazione sulle reti sociali oppure organizzando iniziative, azioni di vario tipo che siano da occupazioni più o meno simboliche o soprattutto i blocchi, i blocchi della logistica, i blocchi davanti ai depositi nella regione. Nella periferia nord di Parigi o nel porto industriale di Genvilliers o anche assumendo iniziative nello spazio pubblico, quindi lanciando magari delle assemblee generali o altri tipi di momenti di discussione, di confronto e facendo in misura minore autoformazione. Parlare, per questo la tematica di quest'ultimo panel o tavola rotonda, se ho ben capito, di produzione, circolazione e riproduzione, nuove lotte e ricomposizione in Francia e in particolare a Parigi, negli ultimi anni ci vorrebbe molto più tempo di 15-20 minuti, insomma che è quanto credo di avere a disposizione perché abbiamo a che fare con una sequenza continuativa, determinata da elementi appunto di continuità ma anche da delle rotture importanti sia per quanto riguarda i processi di ristrutturazione neoliberale che erano stati innescati da Hollande sull'onda delle riforme di Sarkozy ma che sono stati ulteriormente radicalizzati e intensificati da Macron sia con un processo di mobilitazione semipermanente o permanente, che dir si voglia, con un elemento di rottura forte determinato dai giletjohn ma che dura appunto da 3-4 anni perché dal 2016 al 2019, sia in 4 anni, abbiamo avuto in Francia 4 movimenti sociali forti, contro la Lovatravail 1 nel 2016, contro la Lovatravail 2 nel 2017, contro la riforma dell'università e del trasporto pubblico appunto nel 2018, l'irruzione dirompente dei giletjohn nel novembre 2018, che è un movimento non soltanto estremamente originale, non soltanto estremamente radicale, innovativo e ne parlerò tra un momento, ma anche estremamente lungo e prolungato nel tempo, con tante specificità territoriali, sul quale da qualche settimana, e ora siamo proprio in media stress, si è innescato, un quinto movimento in quattro anni, il movimento contro la riforma delle pensioni. Quindi il quadro appunto è molto ricco, è molto dinamico, credo che si possa senza al benché minimo ombra di dubbio dire che il contesto nazionale francese è il più vivace su scala europea, in questa seconda parte degli anni dieci e, come dire, vi sono state lotte appunto che hanno toccato i tre ambiti di discussione del titolo, appunto, la sfera produttiva con le due riforme del mercato del lavoro e anche delle istituzioni che intervengono nel mercato del lavoro, la Lua Travai 1 e la Lua Travai 2, che ha precarizzato ulteriormente il mercato del lavoro, l'ha liberalizzato, ha facilitato i licenziamenti e ha ridimensionato la capacità di intervento del sindacato. La Lua Travai 2, che ha ulteriormente aggredito non soltanto il mercato del lavoro, ma anche i diritti sociali legati al lavoro e, dopodiché, a partire dal governo Macron, che ha fatto in realtà la Lua Travai 2 del 2017 a firma di Macron, vi sono state anche tutta una serie di riforme antisociali che hanno toccato l'istruzione media, l'istruzione superiore e, da ultimo, a causa tutta una serie di diritti sociali e poi vi erano sul piatto, ormai già da un anno, la riforma della disoccupazione e la riforma delle pensioni, le quali sono state posticipate a causa appunto della forza espressa nelle piazze sui Rompuens dai Cilicioni, e che ora, a causa delle ingiunzioni di Bruxelles, non possono più essere ritardate. E poi questo è stato il primo effetto anche pragmatico del movimento dei Gilets jaunes. Macron ha dovuto mettere sul piatto oltre 17 miliardi di euro, sforare i limiti del budget e quindi, a causa anche del peso economico-politico della Francia, acutizzare ulteriormente le tensioni già presenti in seno alla Commissione, al Consiglio e al Board della BCE. Lascierei stare su 2016, 2017, 2018, o a Travai e riforma del trasporto pubblico, perché se ne è già tanto parlato in Italia, e insisterei invece sui Gilets jaunes, che hanno determinato veramente un elemento di rottura, non soltanto in termini di composizione sociale, non soltanto in termini di composizione geografica, anche del movimento, e poi sono, come dire, frange della società che non sono abituate, o use a forme di attivazione, di soggettivazione politica, che hanno anche un radicamento territoriale, che non è quello classico, appunto, dalle città, delle metropoli o delle banlieue, e che, soprattutto all'inizio, anzi, si era molto discusso del loro carattere spurio, ambiguo, contraddittorio, o chiaramente anche sporco per certi versi, in termini di prospettive politiche, sulle rivendicazioni stesse dei Gilets jaunes, che chiedevano, tra le varie cose, soprattutto la lista delle prime 42 rivendicazioni, sulle quali tutti si sono gettati a partire dal 5 dicembre 2018, quando sono state rese pubbliche, per cercare di capire un po' questo oggetto non identificato, che erano questi esserini di giallo vestiti, che occupavano le rotonde di tutta la Francia, che mettevano a ferrofuoco i centri delle più grandi città metropolitane, nel momento in cui non si riusciva a capire chi fossero, cosa volessero, eccetera, nel momento in cui sono state prodotte queste 42 rivendicazioni, tutti si sono gettati là sopra, per provare a decifrare un po' il movimento, ma poi se uno le legge non è che volessero niente di che. Uno storico e politologo ha scritto Samuel Hayat due articoli che sono stati molto discussi e che a mio avviso erano già criticabili all'epoca, sono completamente stati sorpassati dall'evoluzione del movimento, che appunto è un momento che dura oramai da 12 mesi e che ha conosciuto varie fasi, questo è un altro elemento importante, ma cosa chiedevano, dice Samuel Hayat, si trattava di domande di economia morale popolare, un po' più di giustizia economica, un po' più di ridistribuzione, un po' più di welfare, un po' più di presenza del pubblico, qualche aumento salariale, zero barboni per strada, sostegno, le persone diversamente abili, eccetera, eccetera, eccetera. In realtà sarebbe stato ed è molto più interessante, al di là delle discussioni sulla composizione spaziale e sociale del movimento, ma credo che siano state anche queste ampiamente ribattute in Italia, a soffermarsi sulle pratiche, sulle forme di auto-organizzazione, sulle modalità di azione che sono state messe in atto dai gilets jaunes. Credo che in filigrana la consistenza, la realtà, l'originalità e la potenza del movimento consista veramente nelle sue iniziative, che possono essere ridotte per andare all'osso a 4-5, ai blocchi della sfera della circolazione, per parlare appunto, poi magari Silvène potrà, che credo sia presente, Silvène Adiascon, ci si conosce, facciamo diverse cose, presente Silvène Adiascon, ci si conosce, facciamo diverse cose assieme, come potrà dire qualcosa in più, ma l'occupazione dei rompun per bloccare i flussi di circolazione delle merci, quali rompun venivano bloccati? Non soltanto i rompun davanti ai centri commerciali, non soltanto i rompun davanti alle stazioni di servizio per rallentare l'approvvigionamento di benzina degli autoveicoli, non soltanto, e questo è più interessante forse, le rotonde davanti ai nodi della logistica, porti o altre zone appunto in cui transitano le merci pesanti, le merci che approvvigionano i comparti industriali, ma anche, e su questo se ne è parlato meno, ma è stato un elemento assolutamente importante nelle prime fasi, dei rompun, delle rotonde che non avevano alcun interesse economico. Perché venivano bloccati quei rompun così, o rallentati più che bloccati? Perché erano dei rompun che erano invece strategici dal punto di vista della circolazione di persone. E questo perché? Perché dava visibilità al movimento e perché i Gilles Jorn potevano discutere, confrontarsi, farsi conoscere e parlare delle loro rivendicazioni, delle loro criticità, delle loro proteste rispetto al governo Macron. Oltretutto poi i blocchi sui rompun non avevano soltanto questa funzione, se volete, di rallentamento di blocco economico della circolazione delle merci, non soltanto di incontro con la popolazione, con la cittadinanza, che non era ancora Gilles Jorn, ma che simpatizzava in larghissima misura, nonostante appunto il carattere quasi insurrezionale del movimento, ma erano anche dei luoghi importanti di socializzazione, di convivialità, di ricostituzione del legame sociale, di fraternité. E in più erano importanti perché è sui blocchi che, e noi stessi come piattaforma di inchiesta militante non abbiamo mai insistito da così, non so perché, su questa questione non so perché, ma è sui rompun e in questi momenti appunto di scambio di confronto, che di fatto i Gilles Jorn hanno praticato, hanno messo in atto delle forme di autoinchiesta di massa, perché era la così che discutevano, era la così che elaboravano i cahier di Doleance, era la così che hanno fatto centinaia di migliaia di questionari ed è a partire dai blocchi che anche la prospettiva politica, e quindi in termini di composizione politica, questo oggetto appunto non identificato che erano i Gilles Jorn, si è via via, come dire, ammaturato delle posizioni più leggibili anche da chi politica la fa ben prima dei Gilles Jorn, insistendo moltissimo sulla democrazia diretta. sull'orizzontalità, sull'auto-organizzazione, sul rifiuto della delegazione, sul rifiuto delle forme di mediazione sociale, cosa che per esempio Samuel Hayat nei suoi testi sull'economia popolare e morale non ha mai sottolineato questo elemento di discrasia, perché se si vuole un'economia più giusta, più morale, più equa, è necessario che qualcuno patteggi, che qualcuno negozi, che qualcuno appunto medi istituzionalmente per distribuire un po' più di ricchezza, e anche a partire dai blocchi dei ron-point, che la prospettiva della democrazia diretta ha conosciuto uno sviluppo estremamente interessante con le assemblee delle assemblee, che riuniscono ogni 3-4 mesi, ve ne sono già state 4 e una quinta in fase di preparazione a Toulouse, svariate centinaia di assemblee popolari per discutere le linee del movimento, per discutere della strategia del movimento, la quale poi è adottata sempre a livello locale. E poi dopo quinta forma di azione, chiaramente le manifestazioni, ma su questo anche vi si è già letto tanto, sto già parlando da oltre 15 minuti, manifestazioni che non soltanto hanno un carattere appunto di quasi insurrezionale, nel dicembre scorso, anche il 16 marzo, e per certi versi non insurrezionale, ma insomma delle sommosse metropolitane molto forti, il primo maggio, il 14 luglio, il 21 settembre scorso, il 16-17 novembre, due settimane fa, per il primo anniversario dei gilets jaunes, ma di fatto manifestazioni che scombinavano completamente il quadro dei percorsi, dei cortei concordati con la prefettura e che sfociavano in forma di blocco metropolitano, perché poi dopo i consumi, i negozi, i magazzini, i musei, della ristorazione, il settore alberghiero stesso, sotto Natale, tra l'altro 2018, in una città come Parigi, non poteva appunto, quei settori economici lì che sono trainanti, in una città come Parigi, erano in estrema difficoltà. Altro punto, e finisco così, il movimento dei gilets jaunes ha inciso sugli immaginari sociali e sulle modalità di organizzarsi, di praticare il conflitto, è ceduto e di fatto influenzato positivamente tutti gli altri movimenti sociali. A partire più recentemente dagli studenti medie e dagli studenti universitari, vi è un movimento che sta nascendo a causa soprattutto dell'immolazione di due studenti nel novembre scorso e gli studenti hanno messo in pratica appunto delle forme di azione diretta che si ispirano alle modalità dei gilets jaunes. Lo abbiamo visto nel settembre scorso con il movimento ecologista. In Francia è stato l'unico contesto nazionale su scala globale in cui le pratiche di piazza e le occupazioni fatte dal movimento ecologista con dei gruppi di gilets jaunes e altri collettivi autonomi hanno avuto un'offensività che negli altri contesti non vi è stata e lo si è visto con le basi sindacali già nella primavera scorsa e in particolare a partire da quest'autunno con i lavoratori della RADP che è il trasporto metropolitano parigino con i pompieri, con i ferrovieri ma gli insegnanti, gli ospedalieri stessi e il personale ospedaliero stesso hanno assunto delle capacità di iniziativa e di autonomia che prima non avevano e una radicalità, un'offensività anche che non sempre ci si attende da quelle componenti da così che hanno spinto allo sciopero alla chiamata e alla generalizzazione dello sciopero che si sta attuando e forse 20 minuti, ancora 5 minuti sullo sciopero e poi finiamo che non è stato chiamato dalle centrali le quali sono state schifosamente ostili ai gilet jaune nell'ultimo anno e ora vogliono cogliere questo momento non soltanto per andare a negoziare delle buone condizioni ma anche per lanciare un'altra dinamica politica e sociale che possa marginalizzare o oscurare i gilet jaune una dinamica in cui si sperano di avere il controllo ma è uno sciopero che è nato dal basso che è nato grazie alla costruzione portata in avanti da certi settori avanguardisti da certe basi sindacali estremamente combattive che a partire da settembre si sono messe appunto a scioperare e a chiamare per il 5 quindi uno sciopero che è stato costruito dal basso e che è stato costruito da da vari mesi nel trasporto metropolitano parigino che ha conosciuto un blocco totale il 14 settembre e ieri e oggi non c'è nessuna metro praticamente che circola a Parigi nessuna auto pochissimi autobus e pochissimi treni e treni locali è stato subito raggiunto dai lavoratori dell'essenza F del trasporto ferroviario che avevano già fatto una lotta dura nella primavera del 2018 e pian piano insegnanti settore dell'energia pure nel privato pure nel privato vi sono stati sempre più più frange che hanno chiamato a se stesse a uno sciopero a uno sciopero riconducibile quindi rinnovabile di giorno in giorno due dati e poi concluderei su questo si tratta di uno sciopero che è partito molto più forte dello sciopero del 1995 se non che siamo in un contesto appunto completamente differente dieci anni di crisi tre pesanti sconfitte sindacali tra il 2016 e il 2018 e si tratta di uno sciopero che rispetto al 1995 non soltanto si è da dopo un anno di gilet jaune e con un movimento studentesco e medio che sta per partire ma che si articola anche con delle dinamiche di piazza che nel 1995 non c'erano tanti non c'erano tanto ieri vi sono state oltre 250 manifestazioni in tutta la Francia oltre un milione e mezzo di manifestanti secondo la CGT 800.000 secondo la prefettura cifre importanti anche se nella prefettura il ministero dell'interno e in più e questo anche è chiaramente frutto di un anno di gilet jaune manifestazioni in cittadine e in paeselli paesi di 2-3 mila abitanti avevano manifestazioni di qualche centinaio di abitanti che non decideva di andare a manifestare nella cittadina vicina o nella città vicina ma manifestava nel proprio paese nel proprio villaggio e cittadine di il caso di Auriglia che è stato citato da Martinez stesso il portaparola della CGT una cittadina di 3-5 mila abitanti con una manifestazione di 3 mila abitanti nel caso più sorbitante però questa situazione si è data in molti altri contesti ora la scommessa e la posta in palio è quella chiaramente dell'articolazione tra queste varie componenti capaci di bloccare la sfera della circolazione la sfera della produzione e di richiedere perché poi di fatto è quello non soltanto un miglioramento delle condizioni di lavoro e non soltanto degli aumenti salariali ma anche una riconfigurazione del sistema welfare stico stesso quindi della sfera della riproduzione sui servizi pubblici sull'educazione sulla sanità sui diritti sociali ma si tratta di appunto riuscire per essere vittoriosi in questa articolazione tra i due movimenti bisognerà imparare ancora una volta di questo le basi sociali le basi sindacali sono perfettamente coscienti dallo spirito e dalle pratiche dei gilets jaunes in questi giorni vi sono state già diverse assemblee generali e diverse assemblee sui picchetti di sciopero e tutti i lavoratori dicono bisogna fare come i gilets jaunes bisogna auto-organizzarsi dal basso è l'unico modo per estendere lo sciopero in vari altri settori per farlo massificare di più laddove lo sciopero è già forte ed è estremamente forte i dati sono facilmente trovabili online ma per prolungarlo nel tempo l'unico modo per sottrarsi alla negoziazione tra le centrali sindacali e il governo perché questo vogliono fare non vogliono il ritiro della legge e non vogliono la caduta di Macron stanno concertando già da 18 mesi e non aspettano altro l'unico modo per acutizzare ulteriormente la crisi politica francese la quale chiaramente irradierà e avrà delle percussioni anche su scala europea è quello dell'orizzontalità e dell'auto-organizzazione concluderei così grazie